Perché dovresti comprare una serie 6C Deutz-Var? Ecco 10 punti, prendi nota! Il motore ha la cilindrata corretta per erogare tutta la potenza richiesta e al tempo stesso tenere bassi consumi e i costi di esercizio. Lo so che non ti piacciono i compromessi. I tre tipi di trasmissione rispondono a tutte le esigenze di questa classe di potenza. La più semplice trasmissione è PowerSheet a due o tre stadi. L'innovativa trasmissione RV Shift con comportamento Full Power Shift 20-16 o la comodissima variazione continua TTV a due stadi. Gli assali sono proporzionati allo sforzo a cui sono sottoposti e dotati di freni a disco in bagno d'olio. Parola d'ordine, robustezza e sicurezza. Operi su terreni culinari o montani? Abbiamo brevettato il freno idraulico motore e ti mettiamo a disposizione la PTO sincronizzata per farti lavorare in serenità. E quando avrai finito il lavoro potrai lasciare il trattore parcheggiato in sicurezza grazie al freno di stazionamento idraulico HPB. Distributori meccanici, elettronici o misti alimentati da pompe convenzionali o load sensing. Come andare al supermercato? Dicci cosa ti serve e noi lo mettiamo sul tuo trattore. Con una capacità di sollevamento di 7 tonnellate al posteriore e 3 all'anteriore puoi abbinare qualsiasi attrezzo anche per lavorazione in combinata. Cabine moderne, dà la grande visibilità e dotate di tutti i comfort. Sarà il tuo secondo ufficio. Sospensione pneumatica del sedile, idraulica del ponte anteriore e meccanica della cabina. Starei comodo anche sui terreni più accidentati. Con le ultime versioni dei sistemi di precision farming la produttività schizzerà le stelle e i costi diminuiranno. Che regalo ti farai con tutti questi soldi sperati? Non hai ancora finito il lavoro e sei fatta sera o hai sceso improvvisamente la nebbia? Taglia la pette con i 12 fori di lavoro a tecnologia LED.